E ritorniamo dall'altra parte dello studio per il consueto appuntamento del martedì con la salute. Ci ha raggiunto il dottor Salvatore Cusenza che ringrazio sempre per la disponibilità e la professionalità e che saluto. Eccoti dottore, buongiorno. Buongiorno a te. Prima di iniziare la nostra chiacchierata diamo linea alla regia per la nostra bellissima sigla. Eccoci dunque per parlare di salute attraverso una sana alimentazione, in maniera particolare in questo inizio d'autunno, in realtà molto tiepido, tiepido dottore. Però ecco un po' di malanni di stagione iniziano ad affacciarsi e quando si affacciano i primi malanni di stagione, cioè i primi raffreddori, una delle cose a cui facciamo ricorso sovente sono i fermenti lattici. Per cui ti chiederei, ecco dottore, come integrarli correttamente nella nostra alimentazione, pregi e difetti. Insomma approfondiamo un po' questo tema dei fermenti lattici. Beh, di nuovo buongiorno. Sicuramente fermenti lattici, ceppi batterici contenuti in queste confezioni che si vendono in farmacia, ormai si vendono anche nelle GDO, ce ne sono di ogni tipo. e ognuno è diverso agli altri, quindi in realtà i fermenti lattici si usano a sproposito e senza senso molte volte. Perché se noi dovessimo usare, ad esempio adesso, nel campo di stagione, la primavera e l'autunno, per chi soffre di colon irritabile, aumentano i problemi intestinali. In quel caso bisognerebbe fare un disbiasi test sulle urine e andare a ricercare lo scatole dell'indicano, che sono due metaboliti del triptofano. Non parlare difficilissimo però. Sono due metaboliti di una sostanza che viene assorbita dal corpo. Se è presente in maggiore quantità uno o l'altro, o in ugual misura, noi possiamo avere una disbiosi intestitale, quindi fermentazioni, che possono essere fermentative, putrefattive o miste. E in base al tipo di esito dell'esame, diamo dei fermenti lattici adatti. Perché un ceppo, che nella disbiosi fermentativa potrebbe andare bene, nella putrefattiva potrebbe fare altri danni, aumentare il problema. Quindi, usare i fermenti lattici a caso è un po' azzardato. Se ne usano forse troppi, ma in modo sbagliato. In realtà, per usare un fermento lattico, noi dovremmo proprio fare un esame del microbiota intestinale e vedere quale ceppo batterico manca e quale è in eccesso. E cercare di riequilibrare la flora batterica. Perché la flora batterica intestinale, il nostro microbiota, è stato ormai definito un organo vero e proprio. Parliamo circa di un chilo e due, un chilo e mezzo di batteri presenti nell'intestino. Quindi è tanta roba. E dal microbiota viene fuori anche un sistema immunitario più forte, più resistente e tante altre cose. Quindi è stato sottovalutato in passato, ma adesso ci sono tanti studi e si sta valorizzando quello che veramente era il nostro secondo cervello intestino. Faccio questo esempio scemo. All'università, quando si doveva fare un esame, si avevano problemi intestinali. Si correva al bagno perché effettivamente il nervo pago che collega il cervello e l'intestino andava in tilte e tutto si rifletteva sull'intestino, sul nostro secondo cervello. Anche se qualcuno si è addirittura ad arrivare anche a dire che quello è il nostro primo cervello. Quindi è stato un po' sottovalutato. Sono d'accordo con te perché lo stiamo riscoprendo in questi anni proprio grazie a una maggiore consapevolezza sull'alimentazione e al funzionamento anche del nostro corpo attraverso i nostri organi. Molte volte riscontriamo appunto questa evidenza quando o perché mangiamo male o perché abbiamo dei carichi di stress ecco poi quelle cattive abitudini si riflettono anche attraverso malesseri che dall'apparato digerente diciamo così si riflettono anche alla testa. Proprio per esempio faccio riferimento ai problemi di mal di testa che a volte vengono scatenati da cattiva digestione. Certo. C'è anche da dire che il nostro intestino è stato abituato per millenni a riconoscere pochi tipi di glutine. Con l'avvento della tecnologia sono stati creati tanti tipi di grani con concentrazione di glutine quindi di proteina del grano che è quella che serve al pastificio, cioè al pizzaiolo per renderlo più elastico con maggiori quantità di questa proteina che però il nostro intestino non riconosce. Quindi ci sono tantissimi casi non di celiachia ma di gluten sensibility quindi di altissima sensibilità al gluten di questi grani moderni. Se prendiamo la stessa persona che ha problemi di gonfiore, diarrea, stitichezza con questi grani moderni e li facciamo rimangiare grani antichi come il senatore Cappelli il problema si spegne e si risolve. Quindi anche queste cose vanno a creare dei danni sulla flora batterica intestinale perché il nostro DNA che si è evoluto in millenni non può cambiare in 30-40 anni con l'avvento di questi nuovi grani e di conseguenza con questa nuova proteina del glutine. Ci vorranno millenni per adattarsi. Torniamo all'argomento dal quale eravamo partiti, i fermenti lattici. Abbiamo detto soprattutto per chi ha problemi di colon irritabile è opportuno utilizzare attraverso la consulenza di uno specialista dell'alimentazione, magari dopo aver fatto esami specifici. In linea generale però, se non ricordo male, li assumiamo una volta al giorno, al mattino. Una volta al giorno, tendenzialmente lontane dai pasti, è nel caso in cui ci fosse una cura antibiotica, sai, nell'eradicazione dell'elicobacter, in una cura antibiotica qualsiasi, per evitare di far distruggere la flora batterica intestinale perché l'antibiotico, oltre a distruggere i patogeni negativi, distrugge anche quelli positivi, quelli che ci servono. Quindi prenderli lontano dall'antibiotico, cercare di distanziarli di molto per fare meno danni. I danni ci saranno sempre, però evitiamo la distruzione. Ecco, questo mi pare un consiglio molto importante. In un periodo dell'anno in cui, come dicevamo, affiorano i primi raffreddori, e tante volte i medici, ecco, ci prescrivono gli antibiotici. Quindi all'antibiotico associamo sempre un fermento lattico buono. Preso però a distanza di tempo. A distanza, altrimenti... Ecco, volevo chiederti questo, perché non prenderli a distanza ravvicinato insieme? Insieme, perché altrimenti l'antibiotico va a distruggere anche subito quelli. Ah, ok. Ne restano pochi attivi, quindi se li distanziamo, abbiamo maggiori probabilità che ne restano vivi di più. Possiamo anche dare un'idea, ecco, se prendiamo l'antibiotico... Due o tre ore di distanza. Se prendiamo l'antibiotico al mattino e alla sera, il fermento lattico a pranzo. Prima di pranzo. Pranzo. Molto bene. Grazie, ecco, sono piccoli consigli che però davvero diventano davvero molto utili, perché se, come nel caso specifico, apprendo anche io oggi, e ne sono molto grato al dottore, l'antibiotico annulla l'effetto del fermento lattico, avremmo sprecato tempo e denaro, per cui... Eh beh, antibiotiche, antibios, antivita. I fermenti lattici sono cellule vive, sono batteri. Batteri o funghi, dipende poi da che cosa utilizziamo. Quindi, se introduciamo delle cellule vive, l'antibiotico va a uccidere anche quelle. Molto bene. Con questo prezioso consiglio ci avviamo alla conclusione della puntata di oggi della Salute Vien Mangiando. Io voglio fare solo un rapidissimo collegamento con un altro grande classico del periodo autunnale-invernale, la vitamina C. Magari, ecco, per chiederti se anche l'assunzione di vitamina C è compatibile con l'utilizzo di fermenti lattici oppure no. Sì, la vitamina C è un ottimo antiossidante ed oltre alla vitamina C, un grammo al giorno che si trova un po' ovunque in commercio, o una buona premuta di arance, io consiglierei anche di utilizzare la vitamina D, perché la vitamina D non ha un'azione solo sul fissare il calcio, ma ha altre circa 4.000 azioni, tra cui fortificare il sistema immunitario, benessere fisico, mentale, psicofisico, resistenza e tante altre azioni. La vitamina D è un po' sottovalutata, ma ha tantissime azioni, non solo nel fissare il calcio. Perfetto. E soprattutto noi pensiamo che bastano le due o tre settimane di mare per fare una riserva, ma io vedo, quando vedo gli esami in ambulatorio, il 99% ha una vitamina D bassa, nonostante viviamo in un posto dove il sole c'è sempre, viviamo in un paese del Mediterraneo. Sì, sono d'accordo. E credo di dire anche un'altra cosa giusta, nel invitarvi nuovamente a rivolgervi ad uno specialista dell'alimentazione di fiducia, o scrivere al nostro dottore al suo indirizzo mail, per evitare sovradosaggi, soprattutto in relazione alla vitamina D, mi pare che bisogna fare un po' più di attenzione. Certo, bisogna fare un'integrazione giornaliera. In passato si facevano integrazioni settimanali o mensili, ma dare un grosso bollo di vitamina D non ha un effetto serbatoio come la macchina, non si accumula nel corpo, quindi una parte viene eliminata. Dare piccoli dosaggi giornalieri ha un effetto molto migliore sull'assorbimento, ed è molto più efficace. Grazie dottore, ringrazio anche la regia che ha fatto apparire sui vostri schermi, in sovrimpressione, l'indirizzo mail del dottor Salvatore Cusenza, eccola qui, drcusenzasalvatore.gmail.com, scriveteli, il dottore vi risponderà prima o poi, mi auguro. Io rispondo sempre, se qualcuno scrive io rispondo sempre. Benissimo, perfetto. Grazie ancora allora dottore, ci rivediamo prossima settimana, e buon proseguimento di giornata. Buongiorno a tutti.